Prima di tutto, perché una casa va all'asta? Guarda Thomas, bella domanda. Sai che nei Spock mi fanno domande così dirette, quindi così pensate. In effetti una casa va all'asta per tantissimi problemi. Alla base c'è sempre un proprietario di casa, quando ovviamente il diritto pignorato è il diritto di proprietà, che non paga o il mutuo che aveva accesso per pagare la casa, o per esempio canoni condominali o altri debiti vari. Quindi si presuppone che uno o più creditori che debbano recuperare i propri crediti pignorino l'immobile. Ovviamente ti dico una cosa, tecnicamente per noi avvocati il pignoramento immobiliare, che è una fattispecie in divenire veramente molto complessa, perché come tu sai la vendita all'asta è soltanto l'ultima fase del pignoramento immobiliare. La fase che precede quindi la vendita all'asta, per noi avvocati dei creditori ma anche dei debitori, è veramente complessa. Quindi ci arriviamo, anche noi, scegliamo di andare a pignorare una casa solo quando non abbiamo altre alternative, quindi pignoramenti immobiliari, per esempio lo stipendio, o quote, obbligazioni.